Ciao e benvenuto in questo video in cui ti presenterò la nostra top 4 delle migliori spazzole asciugacapelli del 2021. Let's go! Al quarto posto abbiamo selezionato la spazzola per capelli rotante Remington AS 8810 Keratin Protect. Remington è uno dei leader nei dispositivi di bellezza. Questa spazzola ne è la controprova, sia per il suo diffusore di keratina e olio di mandorle, che per i suoi due livelli di temperatura regolabili o i suoi accessori. Questo modello è uno dei più completi che ci sia. È apprezzato anche per la sua leggerezza. Le sue piccole dimensioni e il suo design gli conferiscono un'ergonomia senza pari. Dal lato delle prestazioni, questo dispositivo ha un motore da 1000 Watt e una testa bidirezionale per un rendering perfetto. Non dimentichiamo la protezione che i tuoi capelli avranno durante l'asciugatura. Niente più capelli che si rompono o perdono la loro lucentezza. Approfitta anche della robustezza di questo dispositivo e del suo basso prezzo. Come al solito su Top Tech, se vuoi ottenere maggiori dettagli sulle caratteristiche tecniche e ottenere i migliori prezzi che abbiamo trovato su internet, vai alla descrizione di questo video. Avrai tutti i link cliccabili a tua disposizione. Al terzo posto abbiamo selezionato il Roventa Ultimate Experience 2 in 1 Blower Brush. Il vantaggio di questo modello Roventa è che riproduce perfettamente i movimenti del parrucchiere per un rendering impressionante. Allo stesso modo, sempre al fine di perfezionare la sua qualità di spazzolatura, questo modello è dotato di tre testine. Quindi, che tu abbia i capelli corti, medi o lunghi, una delle testine di questo dispositivo sarà adattate. Se questa spazzola asciuga capelli è considerata la migliore da svariati utenti e anche per la sua gestione automatica della temperatura. Fondamentalmente, la testina è in grado di ruotare, riscaldare e regolare automaticamente la sua velocità in base ai tuoi capelli. Dal lato del design è una spazzola per capelli compatta ed ergonomica. Come il modello precedente, protegge i capelli e li rende più brillanti. Al secondo posto abbiamo selezionato la spazzola asciuga capelli Babyliss Paris 2735 E. Babyliss è un barchio che non ha nulla da dimostrare quando si tratta di dispositivi per capelli. Con una potenza di circa 1000 Watt, la spazzola Babyliss Paris ti sorprenderà dopo il suo passaggio. Il rendering è semplicemente impeccabile. Se hai mai avuto spazzole che indeboliscono i capelli, questo problema è ora risolto grazie al rivestimento in ceramica di questa spazzola. Inoltre, niente più accessori. Questo dispositivo è tutto in uno e ti sedurrà con la sua facilità di uso. Se sei un fan dei look personalizzati e originali, le diverse impostazioni di questa spazzola ti sorprenderanno. Attualmente questo modello è uno dei più amati per i numerosi vantaggi che offre. Infatti, tra sicurezza ottimale, estrema manovrabilità e accessori integrati, vi piacerà sicuramente. Anche se è criticata per aver funzionato discretamente su capelli molto fini, è un buon affare nel complesso. E ti ricordo che per ottenere i migliori sconti che abbiamo trovato su internet, fai clic sui link nella descrizione di questo video. Al primo posto abbiamo selezionato la spazzola per capelli volumizzante Revlon RVDR5222E. Per coloro che non lo sanno, questo marchio si è già distinto per i suoi accessori. Unisce inoltre potenza, prestazioni e praticità. Progettata principalmente per le persone che hanno problemi a maneggiare una spazzola classica, questo modello innovativo ha tutto per semplificarti la vita. Ad esempio, il suo design consente di tenerla facilmente tra le mani e le sue piccole dimensioni ti danno più comfort durante l'uso. E non è tutto. Infatti, è anche ammirata per la sua tecnologia ionica che migliora l'essicazione e la distribuzione uniforme e rapida dell'aria. Se sei una fan dell'originalità, questo modello ha tre livelli di regolazione e due velocità per i rendering personalizzati. Sebbene sia criticata per essere rumorosa alla massima velocità, questo è solo un dettaglio rispetto a tutti i punti di forza di questo dispositivo. Ora, quello che ti invito a fare è andare alla descrizione di questo video e fare clic sui link per ottenere tutte le funzionalità complete e i migliori prezzi che abbiamo trovato per te su internet. Se questo video ti ha aiutato a fare la tua scelta, mettici un mi piace e iscriviti al canale Top Tech per essere informato sui prossimi video. Ci vediamo la prossima volta qui su Top Tech. Ciao!